Ho rubato una copia? I tuoi dipinti sono in un magazzino di alta sicurezza a Milano. Via Andreotti 17, settore 222. Il codice di sicurezza è 2311 646. Grazie. Beh, giochi a parte, sei molto bravo. Come hai fatto? Beh, ho già raccontato una storia stasera, credo sia sufficiente, quindi, se poteste, tutti e due, vi prego. Andate. Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già Che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te Ma una volta in più che cosa può cambiare Nella vita mia Di chi è questa casa? È di un ladro che ho conosciuto a Parigi. È lui che conosce mio padre? Probabilmente meglio di chiunque altro. E chi è? Ci ha dato una mano con tutta la storia di Nightfox. Come si chiama? Il nome vero? In effetti non lo so. Io lo conosco solo come Lemarque. Lemarque? Oh mio Dio. Dove eri andato a finire? Aspettavo. Che cosa? Questo. Oh mio Dio. Dove eri andato a finire? Sì. Grazie.